Proseguiamo ora con l'incrocio 618. Anche qui più o meno la situazione è la stessa di prima. Qui abbiamo il veicolo H che è svolta a sinistra e deve dare la precedenza al veicolo C e non solo, anche al veicolo L perché quando questo veicolo svolta a sinistra si troverà alla sua destra il veicolo L. Il veicolo C che a sua volta svolta a sinistra ha la destra occupata dal veicolo L che va nella stessa direzione, mentre il veicolo L che va dritto ha la destra libra, per cui l'ordine è L, C ed H. L parte per primo, C è il secondo che ha la destra libra ora e poi infine H. Vediamo qualche quiz. Allora qui dice che l'ordine è il veicolo C. Falso perché abbiamo detto che il primo è il veicolo L. Questo quiz invece è falso perché afferma che L va insieme al veicolo C. Qui mi dice invece che C va dopo l'L, quindi C che è il secondo va dopo L. Ma, attenzione, questo ma è sempre riferito al veicolo C, ma prima del veicolo H, vero. Quindi C, che è il secondo, va dopo il veicolo L. Ma sempre lui, sempre il veicolo C, parte prima del veicolo H, vero. Ok, anche questo incrocio lo abbiamo terminato e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!